tacqui sentivo che sarebbe stato sconveniente sparare di colpa la verità come un cannone che suo padre aveva ucciso appunto perché non amava nulla se non so biliardi sui studi di scienze naturali questa assurda maledetta verità non potevo spiegarle era insensato parlare dalla mia visione dei fatti che era un'intuizione non una realtà dimostrabile non conosco la causa del gesto per cui suo padre è stato condannato signorina connor dichiarai quindi con cautela parlo di qualcos'altro qualcosa che spiega non il suo gesto ma l'incarico che mi affida con questo incarico suo padre vuole indagare l'ambito del possibile questo scopo scientifico e quanto dice ho il compito di attenermi rigorosamente a questo nessuno ci crederebbe sclamare con agitazione la contraddisse io devo crederlo dichiarai perché ho accettato l'incarico secondo me è un gioco che suo padre può permettersi altri allevano cavalli da corsa come giurista ritengo che il gioco di suo padre sia molto appiccidante lei riflette sono certo rispose fino esitando che lei troverà il vero assassino qualcuno che è costretto a papà a uccidere io credo a mio padre la sua disperazione non mi faceva appena l'avrà aiutata volentieri ma era impotente signorina cala rispose voglio essere un'asta con lei non credo che troverò questo qualcuno per il semplice motivo che questo qualcuno non c'è suo padre non accetta costruzione lei è sincero con me disse a voce bassa vorrei che abbi sia fiducia in me mi fissò in viso attenta con sguardo cupo non evitare se sguardo fiducia in lei disse poi posso aiutare solo se deporò ogni speranza disse suo padre è un assassino lei può capire solo se non cerca della direzione sbagliata bisogna cercare l'argione del delitto in suo padre non in qualcun altro non si preoccupi più per l'incarico che mi ha dato e affermi mi alzai anche la sanzo per caccia dato l'incarico chiesa perché ho bisogno di soldi signorina cala non si facciano le sbagliate di me suo padre può anche considerare questo incarico importante dal punto di vista scientifico per me è solo una possibilità di avviare uno studio mio questo non deve far nascere lei un falsa speranza capisco di non posso permettermi di agire diversamente